Benissimo questo regalo! E' un regalo! Negoziante, come è usato insultare mio figlio disabile? Adesso me la pagherai molto cara! Interrompiamo le notizie, un negoziante è stato picchiato a sangue perché era fatto l'ingrato con un autistico. Adesso questo negoziante è stato arrestato per abilismo e non promoverte l'abilismo e fate attenzione. E dopo questo vi vado a fare un belito caido.